ragazzi eccoci di nuovo insieme su Tracks Simulator 2 allora abbiamo fatto l'aggiornamento all'1.44 ci sono nuove novità tra cui anche le sospensioni che si possono regolare eccetera eccetera poi ho installato una nuova mod grafica e non è affatto male beh iniziamo subito con un lavoro, facciamo un nuovo autonomo allora ci troviamo ad Ancona quindi adesso qui faremo un lavoro diciamo non tanto lungo perché sennò qui ci mettiamo una vita facciamo questo qui, parliamo a Catania oppure Genova facciamo Genova accettiamo il lavoro, vai 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 partiamo subito a palla non capito però perché c'è qualcosa che non va eccetera il lavoro scusa un attimo ah sta qui ecco perché non riuscivo a trovarlo non riuscivo a trovarlo mettiamo la freccia mettiamo la freccia oh c'è il treno ma che bello qui siamo dalle mie parti perché io sono marchiciano e quindi siamo dalle mie parti ancora 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 eh certo adesso mettiamo la 14 che cazzo che cazzo è successo che cazzo è successo non importa andiamo a manetta sempre più veloce bene come vedete qui sono circa le 19.51 adesso andremo a fare il nostro leggetto attraverseremo l'Italia attraverseremo l'Italia a partecipare serata eh sarebbe stato bello può andare a macerare non ci si può andare facciamo il sorpassione ci aspetta un po' di strada extrauvana ovviamente piena di montagne perché stiamo attraversando l'Appennino qui c'è un incidente abbiamo la Pula facciamo il massaggio di livello passato intero 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 I nostri autisti stanno guadagnando, e noi pure. Diciamo tutte le luci, aspetta un po', a vedere, si tutto è acceso, tutto è acceso, grande. Tutto è acceso, grande. Oh, vai a passare. E' un passo in curva, è zardatissimo. E' un passo in curva. Eccoci, mancava pure il sonno. Dobbiamo dormire. Non mi ha lasciato, riesco a trovare un'area sosta, anche se qui la vedo un po' dura. Molto pure. Non mi ha lasciato, non mi ha lasciato, non mi ha lasciato. Ecco, riprendiamo qui, facciamo una bella dormitina. Sì, riparte. Ma cavolo, mi sono dimenticato, non mi ha lasciato una bella dormitina. Un'afeta. Vediamo che non arriva anche il distributore. Il bosco è un гertismo. Un'altra, un'altra. Un'altra, un'altra, un'altra. Un'altra, 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 un'altra. tanto stiamo guadagnando come porci va bene, frena, frena perché la mentira ci vuole stare in teoria 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 forse non so se porterò anche un video del nuovo sniper l'inter fatemi sapere se volete che porti poi vedremo vedremo quello che vedremo vedremo fra poco c'è un distributore quindi ci fermeremo e faremo un po' di rifornimento perché non si sa mai ecco facciamo una benzina un'altra cazzo quando go resta 1.83 siamo sempre siamo sempre pieno perché conviene così da evitare di rimanere senza via si riparte un po' di riuscire non mi ha visto che vuole tempo di riprendere la velocità e poi vedremo un po' so far a presto 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 a presto